Ristorante Indiano-Pakistano Taj Mahal, ristorante indiano-pakistano Aperto tutti i giorni, 11, 15, 18 e 23 Venerdì e sabato, 11, 15, 18 e 24 Consegna domicilio, ordine minimo 20 euro Consegna 2 euro, ordine sopra i 30 euro Consegna gratuita, preordine Telefono 05231726974 Taj Mahal, Taj Mahal Antipasto, onion rings, samosa, samosa, chap Paner, pakora, mix, veg, pakora, chicken, pakora Gamberi, pakora, fish, pakora Antipasto, misto, salsa, samosa di carne Grigliata, chicken tikka, tandoi chicken Chicken malay tikka, chicken sec kebab Lab sec kebab, lab tikka, brown bikka Mix grill Taj Mahal, paner tikka, mix veg platter Veg tikka, beef tikka, mutton chops Abbiamo anche piatti carne Badami korma Chicken tikka, masala, butter chicken Chicken jalfresi Chicken chili, mango, chicken curry Chicken karahi, chicken dressing Chicken manchuria, chicken one handy Chicken badrass, chicken bindalo Beefy bindalo, shahi korma Beef buhna, kofta curry Kofta korma, prawn curry Fish masala, malay kofta Lamba madras, matung karahi Karela ghost, bindi ghost Crema katar, ma abbiamo anche piatti vegetariani Palak paner, shahi paner, cheese chili Chana masala, karela, bindi Toti karela, miks saab zee Dali macani, dal mashi M fascina, ho scasa Mela i kofta, keda i paner Matar paner Toti kiki, karela papura Sal-sun kasag, pahinga and bharta Toti kobi, dal tar Aviamo anche il pane, anche se il pastur Non ce lo vuole dare Tando ri roti Tandori nan, butter nan quante cazzo è lungo questo menù quanto cristo lungo c'è anche dietro ma se non volete il pane c'è pure il riso riso bianco gerard rice vi birriani chicken birriani matton birriani prombi birriani mattar rice tra parentesi mattar pulau abbiamo le zuppe zuppe chicken corn zuppe dal zuppe vendure sono finite le zuppe abbiamo le insalate insalata insalatona mista insalata mista che credo che sia la stessa cosa insalata indiana abbiamo finito le insalate ecco i contorni raita patatine fritte basta meno bambini chicken malifica con patatine fritte chicken pakora con patatine fritte batter chicken con pane ripieno scelta pane artita con pane ripieno scelta abbiamo i dessert ma quando non ci siamo bassi non vediamo ci mangs ci è che se tratta vi un pochino ma quando ci sono stessa un pochino come la cosa è un pochino e se si si chiama si si seguisce il pochino come si si se si mangiù c'èiana c'è l'õdra chai, lemon chai, kawah, te taj bahar, cashmere chai ma adesso possiamo finalmente bere acqua di un litro, succhi di frutta, acqua tonica, spritte, coca cola, fanta, red bull, estate, brick menta maghetta basta, abbiamo il caffè, caffè, caffè macchiato, cappuccino, caffè d'orzo, caffè d'orzo grande ginseng, latte macchiato, latte bianco e adesso viene con tutti i cazzo di cosi i prezzi, 8 mila dollari, buonanotte